Adesso glielo diciamo. Allora, aspettate che devo prima di tutto metterla qui, in chiamata, e poi devo cambiare. Scena! Oh, eccola qua! Ciao Giulia! Ciao! Ciao! Come va? Come stai? Tutto bene, grazie. Voi tutto a posto? Sì, 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 sì. Stavamo parlando, stavamo parlando in questo momento, non so se ti è arrivata questa notizia, del pugile triestino. No, non l'ho letta. Praticamente c'è un pugile triestino, che a Trieste appunto, si è presentato per la finale dei Pesi Leggeri, con una serie di tatuaggi che lui ha addosso, raffigurante, diciamo, effigiei filo naziste, e ha combattuto per appunto questo titolo contro un ragazzo di origini marocchine. La storia molto divertente è che poi, cioè, la storia triste è che è stato introdotto con tanto di pubblico che faceva saluto romano, eccetera. La storia divertente è che ha vinto, non ha vinto lui, ha vinto il ragazzo di origini marocchine. Però, insomma, stavamo parlando perché è effettivamente una tematica che potrebbe essere interessante da riportare in futuro, anche perché, come dicevo allora, adesso qua, la chat stava già iniziando a dire, ma non si potrebbe censurare, non censurare. Non è così semplice, perché in realtà è brutto da dire, ma quello lì è un ambiente che è pieno di questo tipo di persone, purtroppo. Io sono stato più volte, perché ho amici, avete visto, abbiamo invitato chi ho tempo fa, anche nelle arti marziali, per quanto esista una filosofia gigante dietro, purtroppo è pieno di questo tipo di persone. Va bene. Comunque era per chiudere in parte l'argomento, oggi dobbiamo parlare di tutt'altro, dobbiamo parlare di tutt'altro, siamo qui con... Comunque faccio una piccola parentesi, non so se, penso lo sappiate, ma c'è stato un episodio che c'entra relativamente con Di Canio a Sky, che qualche anno fa, mi sembra tre o quattro anni fa, gli avevano dato un programma sulla Premier, che doveva iniziare a settembre, ed estate sono uscite delle foto di lui al mare, con dei tatuaggi, anche lui appunto, dello stesso genere, molto drammatici, diciamo, che più volte lui ha ripetuto di non volersi togliere, perché sono errori, riconosce il fatto che sono errori, non so quanto sinceramente, ma che lo riportano a un passato, a un suo passato, eccetera. E Sky gli tolse il programma per via di questo scandalo, salvo poi darglielo la stagione successiva, perché si era placato, diciamo, lo scoop, il gossip di questa cosa. Quindi anche quello è un tema, secondo me, molto interessante. Quindi quanto si può distaccare la persona dal personaggio che parla di calcio e quindi non di politica o altro, che è un tema interessante, molto dedicato. Sì, sì, no, no, ma sono d'accordo. Tra l'altro le parole scoop e gossip oggi torneranno, eh, io ve lo dico, perché oggi ho letto un paio di cose, non mi ha bollito il sangue come ieri, ma un po' mi ha bollito. Detto questo, il primo punto che mi ero segnato era cercare di introdurvi Giulia e il perché, diciamo, è invitata qui, ma si è introdotta da sola, nel senso che voi lo sapete, ragazzi, che sono sempre alla ricerca di qualcuno con cui riuscire a parlare dei vari approfondimenti. Quindi, bazzico molto sull'ultimo uomo, infatti, Giorgia, Bernardini, ad esempio, l'abbiamo presa da lì, Dario Costa, Dario Vismara, tutte persone che hanno bazzicato, hanno bazzicato. Infatti, c'ho anche l'effigio che Giorgia ci ha tenuto a mandare la bag di Zarina. Sono sempre alla ricerca e qualche tempo fa, sai che non saprei dirti assolutamente la connessione, però qualche tempo fa, finì nel profilo di Giulia, forse sotto Olimpiadi, qualche post sulle Olimpiadi l'hai fatto. E ho detto, ma sai che, sai che questa qui la teniamo d'occhio, prima o poi mi torna utile. Io sono sempre alla ricerca di una fucina di talenti, di persone con cui poter chiacchierare dei vari argomenti. E ho detto, secondo me Giulia, prima o poi torna utile. È saltata fuori la discussione per quanto riguarda Satta, Club, Sky, eccetera. Ho visto le storie di Alessia Tarquinio, ho visto poi le tue e ho fatto due più due, letteralmente. Ho detto, eccoci a posto, abbiamo trovato come parlarne. Quindi, ufficialmente benvenuta a Filosofia Sportiva Digitale. È la prima volta che dico a Filosofia Sportiva Digitale, quindi comunque benvenuta assolutamente. Ecco fatto. Allora, devi sapere che a livello di tempi, io ogni tanto ringrazierò persone per cose, tipo in questo momento c'è Filippo che si tiene tutte le volte a sostenere il canale. Quindi grazie mille e benvenuto. Allora, oggi di cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare di un caso di polemiche, di quelle che io ritengo a volte un po' sterili. Che però hanno un fondo, in questo momento, un po' più delicato. Di per sé, e qui tiro subito la bomba, Io trovo che la polemica Tarquinio-Satta, uno non ci sia, due sia particolarmente sterile. Ma facciamo un attimo di recap. La situazione è questa. Caressa va in onda con questo nuovo, nuovo, questo format che si chiama Sky Club, ma che di fatto è sempre lo stesso, ha semplicemente cambiato nome. Penso che è la prima volta che si chiama Sky Calcio Club. Non sbaglio? Secondo me lo chiamano tutti il club e basta, ma credo ci sia sempre chiamato Sky Calcio Club, però non vorrei sbagliarmi. Sì, va bene, questo la dice lunga di quanto segui il programma. Non sono sicura, però è una piccoletta. Va bene. Ha una presentazione di Sky Sport, Caressa dà la sua ufficialità, dà l'ufficialità del fatto che ci sarà la satta, cioè come ospite fissa, come personaggio fisso all'interno del club. Noi all'epoca l'avevamo discussa questa cosa, in realtà solo perché la storia di Caressa era un pochino... Cioè, per quanto fosse brutta la storia di Caressa, sostanzialmente, avevamo commentato il fatto che ci andasse satta là. Anche perché non sapevamo il ruolo, in realtà, della satta al club. È brutto da dire, o bello da dire, non lo so, perché comunque il ruolo della Shogor, il ruolo della Velina, ormai è sdoganato ed esiste, però io, personalmente, quando ho visto quella presentazione, pensavo andasse a fare quel ruolo, che poi era più o meno quello che faceva anche a Tiki Taka, se non mi ricordo male. Non è che anche a Tiki Taka dicesse... facesse molto l'opinionista. Diciamo, era abbastanza lì. O mi ricordo male? No, no, infatti... Poi, nel senso, le Shogor, le Velina e tutto sono mestieri al pari della giornalista sportiva, nel senso, non è uno più nobile dell'altro. Io ne ho scelto... ne sceglierò, diciamo, uno, lei ne ha scelto un altro. Quindi il dibattito qui non si apre su quale mestiere, quale professione è un gradino sopra l'altra, ma, diciamo, la coerenza di una professione inserita in un determinato ambiente, come in questo caso una trasmissione che parla solo di calcio, perché anche gli altri sport vengono toccati forse una, due volte in un anno. Io l'ho sempre seguito, quindi lo so bene, gli altri sport non ne parlano, non fanno riferimenti a cose extra calcio, mondo del calcio, quindi il dubbio mi è venuto da subito quando ho visto questa presentazione che, insomma, non mi sembrava la persona più adeguata, ecco. Ed è stato confermato dai fatti. Certo, certo. Poi, insomma, il fatto che ci arriva questa prima puntata del club è subito una valanga di insulti, e, insomma, di critiche alla satta. Io qua direi una roba che va detta, ed mi pare che in teoria andrebbe sottintesa, però è giusto, è giusto sottolinearla. Tutto ciò che è insulto, tutto ciò che è nell'ambito del catcalling, nei confronti della satta, è assolutamente da condannare. Detto questo, io ho trovato, perché poi mi sono andato un po' a leggere qualche critica, alcune sono legittime, cara Melissa, mi vorrebbe da dire, perché se è vero che da un certo punto di vista c'era tantissime persone e le hai condivise anche te, in realtà i tuoi mi sa che venissero quasi tutti da Facebook. Comunque la gente che diceva è lì, non capisce niente, su Twitter, su Instagram li hai presi? Su Twitter. Su Twitter, erano dei Twitter, sì. Cioè, quelli che ha fatto vedere Giulia, ad esempio, dicevano quasi tutti, eh, non capisce niente, ma tanto è figa, tanto è bella, ma tanto di qui, ma tanto di là. Questi qui sono assolutamente da condannare, specie la seconda parte. La prima, in realtà, cioè, dal momento in cui uno, cioè, tu vai lì e si vede che hai un copione preparato per leggere ogni, perché questo è quello che, io non l'ho vista, ve lo ripeto, ho letto quello che trappellava nei commenti, sembra che ci fosse un copione preparato, innanzitutto, e che comunque, diciamo, non sapesse di cosa stesse parlando. Questo possiamo rinchiudere. Lì, secondo me, il commento ci sta ed è abbastanza anche puntuale per quanto riguarda, per quanto riguarda Melissa. A questo punto, tra l'altro, e così chiudo la parentesi club, perché poi, diciamo che questo qua è un po' un modo per poter parlare di un argomento più importante. tra l'altro, ho letto proprio di oggi, cioè cercando Satta Club, ho letto proprio di oggi che durante il weekend ce n'è restata un'altra a quel programma sempre riguardante Caressa, sempre riguardante Melissa Satta, ed è questa battuta abbastanza infelice di Caressa legata al tailleur che aveva che aveva Melissa e il suo attendere il fatto che si togliesse la giacca. a risottolineare però di fatto per quanto la battuta sia infelice che il ruolo è quello che dicevi te. Cioè il ruolo di la Satta lì è quello che dicevi te. Sì, infatti la battuta io l'ho vista stamattina al video estremamente infelice e che mi ha fatto forse ancora più riflessere rispetto alla prima messa in onda del programma perché uno dovrebbe imparare, no? Dagli errori per una settimana si è parlato solo del caso Melissa Satta e di cosa ci facesse lei, quindi io mi aspettavo o una rivisitazione del suo ruolo all'interno del programma o comunque delle tematiche da non trattare assolutamente. Non la battuta non vediamo l'ora di arrivare al senso giacca adesso non mi ricordo le parole precise. C'è un imbarazzo che poi lei ha sorriso e non lo so se poi non so se questa battuta era stata scritta da qualcuno o fosse improvvisata comunque il risultato è come la prima puntata molto molto infelice a mio avviso. Sì e al di là di questo che comunque è una critica che stiamo facendo al programma in generale ribadisco secondo me riva a evidenziare qual è il ruolo della Satta in quel spettacolo. Sì esatto. Io guardo il club da tantissimi anni e non ho mai sentito nulla di simile le ho viste ho sentito questo tipo di battute questo tipo di frecciatine non so come chiamarle due volte in questa stagione qui perché c'è un personaggio che appunto non sostiene la conversazione giustamente perché come sottolineava Valessi Perquigno che infatti le sue parole sono state non so perché perché secondo me erano molto chiare fra intese non bisogna criticare lei perché non parla di calcio perché lei non è una giornalista sportiva o non ha nessun tipo di competenza tecnica specifica quindi è ovvio che non parla di calcio e sposta la conversazione su altri toni altre cose fa parte è una donna di spettacolo ma ha sempre fatto spettacoli parecchi diversi tra l'altro mentre cercavo notizie su di lei per fare l'articolo la scorsa settimana ho visto che in concomitanza ha penizzato un programma mi sembra sulla Rai che parla di beauty quindi questo fa capire che lei fa spettacolo ma non sport sì sì no ma è questo e questo è assolutamente corretto infatti ci direi a ribadire che la puntata di oggi è dedicata sostanzialmente a due parole che sono ambiti e competenze ed è questo su cui vogliamo rimarcare a proposito ma sai da dove è inizio cioè perché la Tarquinio ha risposto subito cioè perché è intervenuta la scintilla allora Alessia Tarquinio è stata un ospite fissa per una stagione o di più io me ne ricordo una di questa trasmissione due nelle ricerche io tratta due ok e da quello che all'inizio diciamo del suo discorso lei ha detto tipo di ringrazio per avermi chiesto perché non torno diciamo al club quindi evidentemente diverse persone che hanno guardato la trasmissione le hanno chiesto qualcosa le hanno chiesto un commento perché lei è giornalista sportiva si occupa di sport da tanti anni e quindi passare poi dopo di lei ci sono state altre giornaliste sempre ospiti in generale a Sky e anche più precisamente appunto nel club di caresta e quindi evidentemente le hanno chiesto perché questo salto di figura nettamente opposta e quindi poi da lì lei ha iniziato a fare delle delle riflessioni tra l'altro le sue parole di apertura sono proprio state le tue di prima quindi mi raccomando tutti gli insulti fatti a lei sono ovviamente da condannare e quindi mi ha fatto molto spese tant'è che quando ho scritto l'articolo nelle bozze avevo riportato anche la replica della fatta poi l'ho tolta perché mi sembrava veramente priva di legame perché ha fatto tutto un discorso dicendo intanto non faccio il nome della giornalista ma insultare altre donne tra donne che mi sembrava veramente non avesse proprio frainteso il punto focale e per me era veramente molto chiaro quindi mi ha anche distretto perché secondo me poteva essere una riflessione interessante anche dal punto di vista di me di cioè sinceramente ci terrei a sapere diciamo cosa ne pensa lei della sua presenza lì quindi sarà per la prossima diciamo amen spero di no no in realtà quindi non sapevo che qualcuno diciamo avesse scritto ad Alessia chiedendogli la sua sostanzialmente sulla figura su quello che ha fatto sì dall'inizio delle sue storie mi è sembrato così poi potrei sbagliarmi però aveva proprio tipo ringraziato delle persone quindi è vero è vero forse dice anche una cosa tipo ho letto i vostri messaggi adesso raga tra l'altro comunque arrivo dalla chat e datemi un secondo finimo questa piccola intro sì e sostanzialmente Tarquino non è che abbia detto chissà che cosa ha sostanzialmente detto uno evitate di insultare perché comunque è una persona che lì è stata pagata e non ha senso che voi insultiate le persone ovviamente non fa la condanna vabbè figa perché penso che come dicevo io sono abbastanza cose da sottointendere e due dice è una questione appunto di ruoli e di competenze lei è lì e non è una giornalista sportiva e non ha la pretesa di fare la giornalista sportiva tra l'altro secondo me la prima volta che ho sentito le storie pensavo fosse una sorta di difesa nei confronti di Melissa devo essere sincero esatto esatto anch'io l'avevo interpretata così ma secondo me è una difesa nel senso non ostendete la sua figura piuttosto prendetevela con chi decide infatti lei ha tenuto anche a sottolineare il fatto che queste figure non vengono scelte non è che si autocandidino oppure ad esempio Caresta ha detto dai prendiamola fatta cioè ci sono tante figure che organizzano il programma gli autori del programma chi appunto decide tutte le cose a priori che evidentemente hanno optato per questa figura su sospite fissa all'interno del programma e quindi è questa scelta che fa discutere anche dico io la presenza la candidatura diciamo l'accettazione di Melissa sotta perché non lo so è come se me invitassero appunto al suo programma beauty qualcosa non avrei nulla di cui discutere quindi probabilmente sarei io la prima a fare un passo indietro però queste sono scelte personali tra l'altro tra l'altro giusto per chiudere la questione gossip c'è qualcuno anzi secondo me la sotta stessa che si è messa un po' in uno contro l'altro dicendo non so nel leggere negli articoli in chi ha riportato la questione quando gli articoli sono faziosi nei confronti della sotta sembra sempre che debbano evidenziare una sorta di invidia allora io vorrei dire una roba a tutti quelli che scrivono questi articoli anzi due la prima uno la Tarquinio non è stata sostituita dalla sotta la Tarquinio è stata sostituita da Dali e da Setti eventualmente se proprio vogliamo fare una diatriba è quella non quest'altra punto numero due sul gossip sul quella mi ha detto che ce l'ha buttata Melissa che secondo me non ha interpretato come abbiamo appena detto le parole della Tarquinio che in realtà cercava di dire questa è lì per fare dell'altro visto che su wikipedia aveva messo è lei o te che ha messo no ma lei ha messo la pagina wikipedia della sotta ok ho scritto e dopo l'ho rimessa anch'io perché era molto esplicativa diciamo la sugarl è quello fa di mestiere vabbè comunque chiusa sta parentesi gossip che secondo me lascia abbastanza il tempo che trova nel senso che rischia di far finire un po' la discussione nel nulla c'è un argomento un po' più importante che sta sotto e tra l'altro lo evidenza bene anche la stessa Alessia nelle storie che è quello che è il ruolo della secondo me non è neanche tanto il ruolo della donna è come viene scelta eventualmente una donna che va in televisione ora prima di arrivare a questo giusto per dare un attimo di spazio alla chat volevo leggere un paio di commenti che c'è qualcuno che in diretta ci sta commentando tra l'altro te lo dico che sono quasi tutti in realtà commenti che vanno contro il programma in generale nel senso che riassumendolo mi par di leggere un cosa ti aspetti dal programma di Caressa però insomma qualche qualche punto guarda Caressa è una figura sempre molto o amata o odiata diciamo e io il programma l'ho sempre visto perché ma in generale il programma di Sky perché adesso sembra una una critica Sky secondo me hanno fatto dei programmi di alto valore soprattutto perché hanno delle persone che comunque di calzo se ne intendono hanno competenze molto tecniche molto specifiche quindi è una una trasmissione poco diciamo raccontata a linee generiche entra molto ci sono molte statistiche c'erano quest'anno non l'ho visto ho visto solo degli ispezioni c'erano molte statistiche molte molte discussioni su il singolo giocatore cose che in altri programmi faticavo diciamo più a trovare quindi io non l'ho mai alcune cose diciamo le avrei cambiate ma questo è un giudizio personale in linea teorica non è che critico il programma 360 gradi ecco quindi allora ti leggo due opinioni così possiamo anche rifletterne insieme prima di arrivare all'argomento principale vabbè qualcuno in realtà sosteneva non mi ricordo in che punto della discussione che in realtà la SATA potesse essere un po' sotto pressione diciamo sotto determinati punti di vista uno le mancate competenze sportive e due la pressione mediatica altissima forse legato anche al tipo di risposta che ha dato molto probabile ma si ritorna un po' allo stesso discorso cioè si sta parlando delle sue competenze è questo che si sta dicendo lo sapevo anche prima di non avere competenze poi per me l'ansia diciamo da prestazione alla prima puntata è più che lecita quindi non fosse stata diciamo al top per altri motivi non avrei avuto nulla da ridire perché secondo me appunto leciti sbagliamo tutti quindi non c'è problema il far trapelare la mancanza diciamo di competenze il fare errori molto grossolani e non non scusarsi anzi attaccando una persona che ha detto cose in sua difesa cioè lì c'è stato il problema centrale secondo me e per quanto riguarda sapeva di non avere competenze quindi si sentiva a disagio assolutamente ma avrebbe dovuto studiarsi prima mi viene da dire visto che ha aspettato un simile programma perché appunto non è che da quest'anno Sky Calcio Club che ha scritto nel nome si metteva a parlare di beauty e calcio in secondo piano ecco sì sì no sicuramente con tutto rispetto di beauty certo no 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 semplicemente temi diversi ecco giusto giusto ecco poi c'è un pensiero che secondo me è un commento che li racchiude un po' tutti dice chiedo in un momento dove Sky sta perdendo tra virgolette utenza visti i diritti tv del calcio anche se rumor si dicono che cose potrebbero cambiare possibile che stiano cercando un modo di far parlare comunque del club in qualche modo altrimenti non vedo perché preservare per due settimane questa direzione in realtà mi permetto di dire che probabilmente è così ma non è tanto una questione di direzione è una questione che la satta e proprio nella persona della satta è una di quelle persone che al calcio porta visibilità nei programmi perché stava o sta non lo so io sul gospel non sono molto ferrato con Boateng stava o sta con Boateng insomma comunque ci bazzica una vita prima con Vieri insomma è sempre stata sempre stata nel mezzo tra l'altro oggi oggi mi permetto di dire un articolo che è abbastanza lasciamo perdere comunque facevano il paragone col fatto che se ne sia andato a Dani da quel da quel programma non so se proprio in quel programma funzionerà da Sky Sport no da Sky non era nel programma ah ok da Sky secondo me c'entra il giusto però sì cioè effettivamente la SATA è una mossa di marketing è brutto da dire perché sembra un oggetto e non è questo che volevo fare però di fatto è quello è un po' come io ho interpretato quando Dazon aveva preso di Letta Leotta anche di Letta Leotta non è una giornalista sportiva ma sono persone con tantissimo seguito e se tu hai bisogno in un determinato motivo Dazon all'epoca era un servizio emergente quindi aveva bisogno di farsi conoscere la fatta e Sky in questo caso ha perso i diritti tv quindi ha perso tantissimi utenti diciamo e hanno bisogno di mosse e soprattutto di persone con ampi seguiti per cercare di portare diciamo più visibilità o almeno io l'ho interpretata così con cioè quindi vedere loro come figure con ampio seguito figure che fanno parlare non necessariamente in negativo però semplicemente appunto persone con del seguito molto più che magari una giornalista sportiva che è iscritta all'album ma che magari non ha seguito ha tante competenze ma non fa clamore quindi magari la prima puntata se tu leggi non lo so Maria Rossi gli dici vabbè invisibilità non so come definirla ma sì 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 giustamente Simone ci dice prendere una persona che a seguito è lecito il modo in cui le tratti è il problema e è un buon assist comunque per arrivare poi a quello che vorrebbe essere la questione principale e sfrutterei la Tarquinio non tanto per la questione di gossip quanto per la questione principale allora tu sei giornalista wannabe diciamo stai sì esatto cioè non sono ancora iscritta all'album ok sto per sto facendo le le varie dinamiche burocratiche perfetto quindi diciamo che tra poco ti vabbè in realtà un po' scrivi già anche per le varie testate online insomma il tuo lavoro sì scrivo sul cartazio per la gazzetta di Modena che io sono di Modena e online su un blog di ragazzi che ti chiama la politica del popolo sì infatti ora poi dopo farò un pochino di spam ma tutto quello che sono i tuoi social e ora vabbè però insomma poi farai il passo ufficiale insomma quando poi diventerai giornalista farai il passo ufficiale ecco la mia domanda schietta così uno due il curriculum mascai le domandi guarda io devo ancora trovare una real è una figura allora le donne giornaliste sportive nelle trasmissioni si vedono ora si iniziano a vedere ma si vedono ancora poco io diciamo che vedo la doppia situazione da un lato vedo queste donne le trasmissioni che guardo la casa mia dall'altro lato io seguo di persona quello che è il mondo dilettantistico l'eccellenza insomma serie di eccellenza promozione quindi vado io sul campo e ho cioè si ha una concezione della donna che segue lo sport nettamente opposta cioè a me succede questo quando dico ah ma cosa vuoi fare da grande da grande vabbè io ho 21 anni cosa vuoi fare diciamo nel allora allora te lo dico non facciamo battute sull'età qui è un attimo ve lo dico è una regola sola non facciamo battute sull'età per favore che poi lo può ecco no scherzo ecco vedi vedi che si svegliano si svegliano tutti i miei collaboratori quelli che vengono qui al giorno a parlare degli argomenti si svegliano quando parlo di età vengono a darmi del vecchio guarda guarda che roba guarda che roba io non lo so io non lo so va vabbè scusa e niente quindi appunto quando mi dicono ah vuoi andare a fare le varie non so Alessio Tarquinio Anna Billo eccetera eccetera si ha questa quest'idea che la donna che parla di calcio va in tv è una donna che deve essere bellissima è una modella che ha deciso di occuparsi di sport sostanzialmente sono tutte donne con dei canoni estetici altissimi eccetera dall'altra parte nel calcio direttantistico quando io mi presento così le prime domande sono sei la fidanzata di chi? di quale giocatore che è la fidanzata quando vado a prendere se quando vado a dire sono Giulia Marzini per la gazzetta di Modena prima ah tu sei la fidanzata di e io no no oppure ah ma proprio tu scrivi proprio cioè un'incredulità generale il ma tu fai calzo quando poi io rispondo no danza insegno danza classica che è considerata la cosa più opposta del mondo cioè proprio convolgimento allo stato puro perché c'è quest'idea che la donna che va a vedere proprio le partite di leghe inferiori deve avere i capelli corti e rasati mi hanno addirittura chiesto con questi capelli lunghi cioè come se i miei capelli lunghi fossero una cosa della no capelli lunghi danza classica ma no calzo quindi è proprio quest'idea nettamente contrapposta che mi fa sempre molto specie perché non abbiamo modelli di donne perché anche le donne in tv anche le donne estremamente competenti appunto prima ho citato Anna Billocchie è una giornalista di Sky che si occupa di Champions da alcune stagioni lei è estremamente competente tendono sempre a farle parlare secondo me troppo poco cioè sono donne giornaliste sportive che danno la parola agli altri cioè dicono quattro parole di introduzione e poi cosa ne pensi Condò cosa ne pensi Capello cosa ne pensi non so che ci sia questa curta o chi per lui e io dico sempre cavolo ma dimmi tu cosa cioè perché comunque anche Paolo Condò è un giornalista sportivo perché finché intervisti l'allenatore o l'ex giocatore ci sta ma quando proprio ci sono i presentatori o comunque i giornalisti loro danno la loro opinione tecnica e io dico ma datela anche voi si sta iniziando si sta iniziando a vedere un po' donne che parlano a livello tecnico con le calciatrici anche lì sono invitate troppo poco spesso quando Sky ha fatto tutto ha raccontato gli europei di calcio c'erano gli ospiti uomini fissi c'era l'ospite donna che tutte le volte era una diversa era una calciatrice italiana diversa e anche lì dico boh perché cioè se siete voi fissi sceglietemi una donna fissa che parli lei tecnicamente e questo è un grandissimo dispiacere dal mio punto di vista guarda io vabbè sono arrivando una serie di nomi dalla chat cittano la San Giorgio in realtà recentemente abbiamo seguito la finale del volley domenica sera noi abbiamo un gruppo telegram diciamo collegato alla live in cui ci sentiamo e abbiamo commentato insieme la finale e perché noi siamo molto amici della famiglia Vullo perché sono miei concittadini quindi Fabio è stato qua ospite più volte con Guglielmo che è suo figliolo abbiamo commentato più volte le olimpiadi insieme e Guglielmo tra l'altro è nel gruppo e tra un set e l'altro c'era Fabio che parlava e ovviamente noi molto orgogliosi di Fabio perché chiaramente l'avevamo avuto qui l'avevamo lì a dire e poi vabbè ovviamente è un'istituzione di quello sport lì però abbiamo elogiato anche effettivamente il modo e qui mi riaggancio a quello che dicevi te della Rolandi di gestire con lui lo studio perché era una gestione non banale per niente nel senso che l'analisi tecnica usciva quasi sempre dalla Rolandi e poi veniva riconfermata con l'esperienza che chiaramente è quella di un super campione che è una leggenda di questo sport diciamo che secondo me ci sono determinati sport dove forse assolutamente anche nel tennis è così non mi sfugge il nome della giornalista di Skype che si occupa di tennis ma anche lei commenti tecnici sempre puntuali anche si la giocano diciamo si giocano la parola lei è un suo collega Massio ma entrambi danno fanno analisi tecniche entrambi fanno commenti commentano quello che succede quindi non hai questa sensazione di disequilibrio assolutamente continuo di una donna che si limita a lanciare la pallina da un lato all'altro ma una donna presente conscia di quello che fa e diciamo che dà appunto commenti tecnici perché ne ha le competenze per tornare certo alla parola centrale certo no 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 è giusto e io ti dirò di delle due dei due aspetti che mi hai detto che ti danno più fastidio ti dico l'incredulità e magari il lo stupore sai che a volte lo condivido mi è successo no ma quello lo capisco è un pochino più tranquillo forse no dall'altra parte il fatto che ti chiedono se sei finanzato del cacciatore è scandaloso dimostra ancora una volta la chiusura mentale purtroppo che c'è in Italia dietro a questo sport è un discorso che è fatto rifatto più volte purtroppo mi sembra abbastanza palese c'è una grossa chiusura mentale dietro dietro a questo sport che viaggia su dei filoni che sono abbastanza abbastanza binari abbastanza dritti mi ricordo quest'estate le famose abbiamo citate più recentemente le parole di di Mounier riguardo il fatto che un giocatore se fosse omosessuale non dovrebbe esprimersi perché il calcio non è pronto per dei giocatori omosessuali penso che sia per quanto su un altro argomento estremamente contestuale cioè la dimostra assolutamente dimostra abbastanza soprattutto quando arrivano da un certo tipo cioè nel mio caso il calcio divettantistico è in mano alle persone diciamo più anziane soprattutto per quanto riguarda biglietteria o cose così quindi capisco che un uomo di più di 70 anni vedendo una ragazza che si presenta in qualità di giornalista o wannabe giornalista non so come dirlo collaboratrice ecco è pronta lì a vedere la partita con il il bloc note o scrivere le cose così sia in un primo momento abbia dello stupore diciamo non capisco e francamente ne ho fino qui quando fanno 1500 domande proprio del ah ma appunto questi capelli ah ma così cioè che non me lo dicono ma quello che io capisco è il così semminile mentre mi aspettavo un maschiacchio in tuta con i capelli corti perché per loro è abbiamo il calcio l'eccellenza ma abbiamo anche la squadra femminile e quindi per me o tu sei una calciatrice donna e che viene a vedere anche le partite oppure non puoi essere interessata a questo tipo di calcio che è il calcio più vissuto diciamo no il calcio meno perfetto della serie A e questo è proprio l'emblema del pregiudizio cioè io quando mi trovo davanti a queste conversazioni veramente vorrei registrarle mentre le tre cani sotto pregiudizio perché è esattamente quello cioè capello lungo biondo no calcio direttanti sì non lo so che cosa ma non è quello ci dicono che il maschiaccio in tutta con i capelli corti sono io e io non sono il giornalista dei due cioè sono quello dei due più lontano ad esserlo e questo è il paradosso effettivo cioè e assolutamente io stesso mi fiderei più dell'opinione di Giulia che non della mia specie sul calcio direttantesco comunque saluto anche a tutti i ragazzi Susi e Mauro che si sono uniti adesso no ma cioè quello a questo punto è assolutamente aberrante e giustamente la gente ci sottolinea come effettivamente sia legato a questione che il calcio è un po' lo sport della massa e la massa non è il top dal punto di vista culturale credo che ci sia un una serie di situazioni che sono successe recentemente al di fuori della questione televisiva che lo ridimostrano i cori legati a quella ragazza col col tagliaerba che ci sono stati più recentemente stamattina stavamo parlando di razzismo io ho detto non ce la faccio che ho detto sostanzialmente che non ce la faccio più basta cioè una volta alla settimana dovrei fare una puntata dedicata al razzismo che ogni mese ce n'è una quando si parlava tra l'altro ecco ecco dove ci siamo conosciuti si parlava del caso di Isai e di Bella Ciao che tra l'altro chiaramente evitiamo allucinante non apriamo la porta perché sono tutti argomenti che si riportano lì ovvero che il calcio forse forse è un pochino è un pochino troppo culturalmente basso in questo momento in Europa o comunque approcciato con uno spirito non 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 corretto mettiamola mettiamola in questa maniera oltre a questo senza arrivare a caso mendica abbastanza oltre indubbiamente oltre a questo in realtà quello che salta fuori c'è anche abbastanza da evidenziare quello che è il ruolo e l'hai fatto giustamente te anche se te per ora esci da sei abbastanza tutto legato allo stampato più che a ciò che va va in televisione va in diretta ma c'è comunque anche il ruolo della donna in televisione in generale a partire a prescindere scusami da questa cosa del giornalismo perché ricordiamoci che a parlare di calcio e non solo in televisione ci vanno persone che non necessariamente sono giornalisti sportivi anche per quanto riguarda i maschi cioè nel senso esatto non vedo grosse calciatrici femminili a parlare di calcio in televisione l'unica penso sia quella che lavora per la Rai io continuo a scordarmela che secondo me però che poi se non mi sbaglio lei è diventata anche giornalista sportiva che fa le telecronache secondo me della Rai è stata la migliore all'europeo quella gli altri allora infatti volevo parlare anche di questo di Katia Serra che appunto ha fatto la telecronaca della finale degli europei e anche lì è stata un'occasione una buona occasione mancata dal popolo italiano ma non solo nel senso che quando io ho letto che ci sarebbe stata perché mi ricordo spero di non sbagliare i due telecronisti affidati alla finale degli europei o comunque uno dei due sono risultati positivi al covid il giorno stesso al giorno prima e quindi lei è subentrata diciamo quindi non era una cosa preparata la sua presenza lì quando è stata data la notizia io ho aperto twitter e ho letto delle cose veramente aberranti non mi capacitavo di questa cosa cioè tantissimi giudizi su Katia Serra basati sul suo essere donna appunto cioè non ad esempio ha una voce una voce gratis non mi ricordo dei giudizi puramente inutili prima ancora che facesse la telecronaca che per me giudicare una persona a posteriori è più che lecito cioè noi siamo spettatori per me tu non hai fatto una buona telecronaca hai fatto diversi errori così ci sta a dire secondo me non è stata all'altezza o secondo me questo telecronista uomo non è stato all'altezza però a priori solo perché c'è una donna perché tu non sei abituato a questa paura del nuovo che soprattutto quando ci sono di mezzo le donne uccide tutti colpisce tutti e ci leggono cose veramente imbarazzanti ed è per questo che avevo pubblicato anche quei tweet della questione sasta perché secondo me c'è pochissima rappresentanza femminile quindi ad esempio una ragazza come me che vuole fare questo nella vita non si trova davanti un modello da dire voglio fare quello perché ho davanti o modelli di appunto come dicevo prima queste donne che sembrano donne inarrivabili e che passa un po' il messaggio del o sei così o non ci prendiamo perché non mi sembra mai che ci sia una donna normale che parla di calcio normalmente senza o con dei trucchi da capodanno delle vestite un tacco 12 con gli uomini sempre eleganti in giacchi e cravate quindi dico ma perché tu devi avere lo stacco il tacco 15 un trucco come la giornalista della Rai che ha sempre questo trucco io tutte le volte che accendo dico ma ma perché nel senso stai parlando di calcio è una trasmissione in cui parli di quello perché devi spostare così tanto il focus su tutt'altro che non è il calcio quindi questa mancanza di rappresentanza quando ci sono delle decisioni forti come quella di Sky di prendere Melisa Satta non fai altro che dare voce a tutto tutta quella massa come abbiamo detto prima che devi cercare di educare non mettere a tacere devi insegnarle perché poi le persone si abituano perché anche ad esempio il caso di Melisa Satta ci sono state più donne in questi ultimi anni e secondo me ci sono state molte critiche costruttive diciamo o centrate sull'argomento nel caso Melisa Satta che anni fa non c'erano assolutamente perché adesso di donne competenti ce ne sono diverse che parlano ad esempio Giulia Mizzoni che adesso è l'altra giornalista di Prime con Alessia Tarquinio Anna Billò per me sono tutte donne competenti che svolgono il loro lavoro in modo perfetto ovviamente come i loro errori come facciamo tutti e quindi queste donne ti fanno vedere che cosa può fare una donna finalmente in una trasmissione sportiva e quindi le persone stanno iniziando a rendersi conto però fare questi scivoloni nel 2021 cavolo tutti i passi avanti microscopici che abbiamo fatto negli ultimi anni è come dai una zappata e ributtarli indietro gli vent'anni e quindi è per questo che a me queste cose fanno veramente cadere le brazze perché dico ancora no per piacere ti dico una cosa io sono un po' più grande come ci tendono a sottolineare i ragazzi tutte le volte faccio una riflessione tu giustamente hai detto prima o poi si abituano io ti dico secondo me no per esempio per un fatto per un fatto molto semplice ed è la missione del singolo programma le singole realtà sportive le singoli salotti sportivi nascono con un intento e mediamente dovrebbe essere quello di diffondere lo sport in generale cercare insomma oppure verticale se siamo nel caso del calcio quando questa missione diventa fare soldi li cambiano tutte le carte in regola io ho qua con me e lo tengo sempre di fianco un libro di Flavio Tranquillo che abbiamo che abbiamo intervistato su proprio su questo su quello che dice il libro dove lui spiega un concetto molto particolare che è quello dello sport cultura che andrebbe diffuso di più e lui non dice sport cultura come due parole staccate lo definisce come un una parola singola un binomio sostanzialmente che deve andare sempre 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 a a braccetto sostanzialmente e quindi il punto sta lì qual è il tuo scopo devi vendere o devi promuovere lo sport cultura quindi promuovere tutto ciò che sta anche al di fuori se tu devi vendere gli articoli io immagino che tu li abbia guardati appena è uscita la notizia di di Melissa Satta la gente diceva che era la risposta di Sky è la Leotta su Dazon cioè è come è come dire che Ronaldo è la risposta dello United a Lukaku al Chelsea cioè sostanzialmente stiamo facendo ma guarda banalmente io tre quarti degli articoli su Melissa Satta che ho letto prima di preparare l'articolo il mio e avevano come immagine di copertina un tipo tre o quattro foto messe insieme di Melissa Satta sempre in costume quando si parlava di mancate competenze di lei in una trasmissione vestita su Sky che parlava di calzo e tutte le foto erano lei in prima pagina che si spuntava davanti enorme quando il mio obiettivo nel cliccare quel link era tutt'altro cioè non era vedere meglio di Melissa Satta in costume era leggere che cosa era successo era leggere di cosa parla quell'articolo quindi questo fa capire tanto anche il dei cioè i vari fenomeni in tv devi devi vendere aumentare lo share e tutte queste cose quindi prendi figure di un certo tipo sui blog online e tutto devi fare click e quindi metti tutte le foto che sempre riprendendo questo target di questo target diciamo metaforico del pubblico tradizionale di un programma sportivo che è l'uomo eterosessuale sul divano di casa sua che beve una birra e mangia una pizza ok cioè è solo quello non esiste altro spettatore medio ma le cose stanno cambiando fortunatamente il calcio femminile ha avuto un aumento anche di spettatori e spettatrici enorme negli ultimi anni quindi dico è proprio per questo no questi piccoli passi io ho tanta fiducia purtroppo per fortuna non lo so ma secondo me bisogna averla per sopravvivere perché se no è finita ho tanta fiducia quindi dicono avete fatto tra l'altro Skype per il calcio femminile ha fatto delle cose importantissime anche a livello televisivo con appunto Alessia Tarquinio che si è occupata negli ultimi anni di calcio femminile quindi siete stati proprio voi a portare avanti questa immagine questi esempi per anche le bambine che allora posso anch'io fare quello e allora posso anch'io fare questo poi mi ricadete nelle dinamiche televisive tutto quello che vuoi nelle cose più becce e basse possibili allora dico lì lo sport cultura ve lo siete dimenticati quando è subentrato il bisogno di qualche abbonamento in più perché avete perso i diritti televisivi cioè proprio la qualità è morta dietro la quantità la ricerca di quantità e questo è molto triste ma è assolutamente condivisibile la tua opinione tutto quello che fa sky per soldi non per etica non è detto questa cosa non si può dire però effettivamente esiste il problema degli occhi di chi guarda purtroppo siamo lì cioè effettivamente il problema dove sta nel chi propone o nel chi guarda questa è la domanda da 10 milioni di dollari ovviamente io posso dire che in realtà tu fai bene ad avere a essere ottimista tra l'altro continua a lavorare perché noi noi abbiamo noi abbiamo uno scopo qua io dico noi perché i ragazzi fanno parte i ragazzi e ragazze perché ce n'è tante fanno parte tutte secondo me di questo progetto noi vogliamo andare a Parigi nel 2024 con un programma dedicato vorremmo crescere abbastanza per riuscire a essere un programma dedicato che va là e che avrà la sua piattaforma quindi avremo bisogno di gente come te e gli altri quindi continua perché abbiamo bisogno quindi volentieri di persone che vengono con noi a Parigi li facciamo fare gli inviati sul campo quindi abbiamo tutto un progetto in testa no però fai bene però è al di là di me che sono uno che ha i numeri che ha comunque in generale esiste esiste il mondo che si interessa di tutt'altro e sta iniziando ad uscire fuori quindi il e vi dirò di più cioè io la faccio lo sapete che a me non è che abbia paura a dire le cose raga fa comodo cioè ve lo dico parlare dello sport femminile fa comodo io questo lo dico anche per i signori di Sky se non ve ne siete accorti parlare dello sport femminile vi porta numeri è così cioè voi aveste un programma dedicato sul calcio femminile tutti guarderebbero quel programma quel programma dedicato cioè se ci fossero delle verticalizzazioni legate allo sport femminile le guarderebbero tutti o almeno tutti quelli che sono appassionati le nicchie si prendono tutte cioè proprio anche a livello numerico funziona così anche per me per quanto io con Giulia ci ho parlato prima della puntata di oggi gli ho detto io ho visto che ne hai parlato vorrei averti per parlarne perché se no sono sempre il solito maschio bianco etero che parla di un problema legato o alle donne o adesso o all'epoca con gli omosessuali eccetera cioè però anche per me è più facile oggi avere seguito perché c'è comunque una persona come Giulia che ha bisogno di spazio ha voglia di spazio ha voglia di parlare della sua e chiaramente si porta dietro tra virgolette quelli che ti seguono mettiamola così cioè quelli che effettivamente la pensano cioè è comodo non so come dire anche proprio a livello di numeri è comodo ragazzi ah ti porto una domanda domanda per lui infatti no dico infatti io mi aspettavo da Sky proprio questo cioè avete perso i diritti tv cercate di sopperire a questa mancanza proponendomi tantissimi programmi diversi diversificati nuove cose se mi riproponi la stessa identica cosa con me li sto fatta in mezzo così allora no hai perso completamente il focus anche perché adesso c'è purtroppo chiudo velocemente questa tendenza che non si sa come dire che ci deve per forza essere una donna cioè adesso per risultare politicamente corretti tra virgolette che è la cosa più abusata di questo periodo devi per forza metterci una donna quindi spesso c'è questa tendenza a dire ah beh dai bravi perché c'è una percentuale femminile io negli ultimi anni non guardo la percentuale ma guardo ok un po' la percentuale ma soprattutto quale ruolo ricopre perché se a Sky i calci club anche come una giornalista sportiva come Dalila nelle scorse stagioni c'erano sì 4-5 uomini seduti intanto che parlavano di sport poi c'era la donna che quindi apparentemente era una bravi avete messo una donna si limitava a commentare i social cioè tutto quello che faceva quando veniva interpellata era Ibrahimovic ha appena postato una storia dicendo congratulazioni bella vittoria Morata ha appena messo guardate lui con i suoi figli che festeggia il gol e poi leggiamo il post ed è quello che sottolineava infatti Alessia Tarquinio dà l'impressione del possiamo farlo tutte e allora lì ti dico allora ok puoi prendere anche Melissa Saffa perché se sta ferma legge su un tablet che cosa ha postato uno su Instagram allora è inutile essere iscritti all'albo dei giornalisti per commentare e leggere quattro righe che un calzatore non italiano ha scritto chiaro sì 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 è questo che ci sarebbe sempre per quanto riguarda ruoli e competenze la curiosità del perché non c'è mai un uomo a farlo questa cosa qui però vabbè questo è un regirarla ancora al contrario è come se non lo so durante uno spettacolo oppure non lo so nella ginastica ritmica poniamo che al tempo stesso avevo fatto delle ricerche che è molto interessante perché la ginastica ritmica è lo sport più stessista del mondo perché non dà la possibilità agli uomini di fare determinate gare perché non esiste la ginastica ritmica maschile quindi un uomo che si approccia a questo mondo praticamente ha un milione di ostacoli davanti a sé e quindi è l'altra faccia della medaglia che però secondo me è importante sottolineare ma a parte questo è come se in un programma così dove questo target televisivo è prevalentemente femminile uno mettesse non lo so Raul Bova col microfono a fare lo spettacolino dire tre cavolate e far parlare tre donne competenti però questo non avviene perché la donna non è un target televisivo non lo è mai neanche se non nelle sopopere orribili della RAI però in Italia ci fu un periodo in cui a Sanremo misero il valletto fu abbastanza cringe per usare un termine abbastanza moderne in questa situazione qua c'è vabbè la parola quota e rosa che nel frattempo in chat è saltata fuori che chiaramente avevano un fine quando sono nate e adesso io sarei abbastanza per abolirle e comunque non hanno più alcun tipo di senso ora dovrebbe essersi meritocrazia appunto senza quota rosa quota azzurre perché ci sono adesso le donne competenti quindi basta semplicemente dare a loro un'occasione ma ci sono non è che te la devi inventare tu e quindi dire pur di prendere una donna la prima che trovo la messo lì a dire tre cavolate adesso ci sono quindi sta a te programma magari rimboccarti le maniche e cercare cinque minuti di più ma trovare una donna competente giustamente dicono c'è una domanda alla parte di Ricky che ci chiede allora cosa te lo dico Ricky è un ragazzo che insieme ad altri ha un un progetto anche lui però verticale sul basket viene qua il giovedì vengono qua insieme agli altri noi abbiamo una giornata dedicata al basket e sabato giovedì scorso c'è rimasto non ti dico rimasto mai perché so che bisogna fare un po' di giri non è semplice imparare a scoprire le persone eccetera eccetera e oggi secondo me con un minimo di curiosità ti chiede domanda per Giulia cosa chi ti ha fatto ti ha ispirato a fare quello che fai cioè hai un modello no per il discorso che facevo prima non ho mai detto di una donna di un uomo forse sì ma comunque è troppo diverso dirlo di un uomo non ho mai detto voglio essere lei voglio fare esattamente quello che fa lei lavorare dove lavora lei occuparmi di queste cose quindi per me è tutto un po' un tentativo perché non so come andrà ci sono adesso poi la comunicazione si evolve a ritmi altissimi quindi poi non sappiamo nulla del nostro futuro però non ho modelli fissi seguo lo sport da quando sono piccolissima io appunto come dicevo prima insegno danza se ballo in una compagnia quindi che però la danza io la vedo molto più come un'arte che come uno sport ho da subito non so bene perché da più o meno 2007 così mi sono appassionata follemente al calzo ho sempre avuto l'abbonamento al Modena che ha avuto una storia un po' travagliata tra vari fallimenti eccetera e quindi ho sempre seguito lì poi la serie A e al tempo stesso mi è sempre piaciuto tantissimo scrivere ho sempre scritto da quando ero piccolissima poesie racconti qualsiasi cosa e quindi ho semplicemente a un certo punto quando dicevo da grande voglio fare la giornalista e sono tanto appassionata di sport ho fatto incontrare le due strade e sono sempre stata molto forse troppo non so determinata perché a 12 anni cosa vuoi fare da grande la giornalista sportiva era un po' così tant'è che questo aneddoto che dico sempre perché per me fa capire tanto il pubblico medio in prima superiore è venuto uno psicologo a fare quei corsi diciamo per far conoscere diciamo le varie classi l'orientamento non so e ci ha chiesto di presentarti di dire appunto tipo nome cognome cosa vuoi fare da grande e quindi tutti erano un po' non lo so ancora non lo so ancora io che ero molto sicura di questo mio sogno quindi ho detto Giulia Martinelli voglio fare la giornalista sportiva e questo psicologo mi disse ah di quella la tv con le in minigonna con le gambe accavallate che fai vedere lo stacco di coscia e io non ho risposta adesso non mi ricordo bene però questa cosa cioè sono cose che adesso vabbè ci rido sopra ma fanno veramente male cioè gli ostacoli sono veramente tanti perché soprattutto quando lo vedi da una persona che dovrebbe cavolo spingerti cercare di di farti raggiungere i tuoi obiettivi vederli cadere in questo pregiudizio è perché proprio le persone non sono abituate quindi c'è un è una doppia fatica a cercare secondo me questa strada non quella facile del del faccio la melissa fatto del caso ma il farmi strada in questo ambito e convincere le persone che è possibile farti strada in questo ambito con delle competenze quindi non a fare la presentatrice perché se no uno fa passa di letto le opa per me è una bravissima donna di spettacolo perché tiene il il palco tra virgolette insomma la scena non so come chiamarla è brava una buona dialettica e tutto ma lei ha fatto una carriera da presentatrice iniziò a fare il meteo ha fatto il contadino cerca moglie ha fatto faremo ha fatto cosa sì esatto lei ha iniziato a fare la serie B a Sky e poi è stata assunta da Adazon e quindi lei è una bravissima presentatrice ma non è assolutamente la mia strada e quindi non so come andrà poi ripeto ho 21 anni quindi magari mi cambierà tutto davanti però per ora ho questa convinzione io chiamo utopia che spero non rimanga tale no ma in realtà ti dico la verità io di anni ti ripeto la possiamo tirar fuori stavo a 32 e di mestiere farei tutt'altro però una passione spasmodica per lo sport nel senso che li ho provati tutti sarei arrivato anche a un buon livello di pallacanestro peccato ci siano stati gli infortuni di mezzo come entro in uno sport mi ci appassionano a 2000 adesso sono sono dentro col beach volley conosco già tutti e quindi sono arrivato a un punto in cui c'è stato una slide indoors nella mia vita è stato un momento in cui prendo una decisione provo a occupare del tempo nella mia vita a tirar fuori questo hobby siccome sono uno che parla un sacco c'è questa piattaforma c'è questa piattaforma provo a tirare in piedi un programma provo a tirare in piedi un programma e allora è saltata fuori così cioè nel senso io sono l'idea che quando uno percorre le passioni prima o poi qualcosa succeda questo per me non è un risultato però è una cosa che mi fa star bene che faccio ogni tanto però ho capito che non posso prescindere da questo poi se ci si andrà o no a Parigi questo è un altro discorso però penso che che uno se è determinato e se ha una passione verticale in fondo in fondo ci arriva tra l'altro segnalavo nel frattempo si sono accese un po' di discussioni M di cui mi piacerebbe sapere se sei ragazzo quando parlo con i nickname è un casino non so mai se devo dire ragazza ragazza è un casino tutte le volte giustamente c'era Jacopo che ci diceva la quota rosa svilisce la competenza della donna brava e M ha risposto anche dell'uomo effettivamente è un punto di vista molto interessante molto intelligente ci sono un sacco di riflessioni e Simone ci dice è interessante il fatto che la domanda di Ricky non specificasse il modello maschile o femminile ma la risposta è andata in quella direzione a me insomma ti fanno i complimenti per la determinazione vabbè insomma ok quindi un po' un po' di roba lì per quanto riguarda le ora ti hai tirato fuori un argomento prima che era quello della ginnastica ritmica che ti devo dire in realtà io sono dentro anche a quella perché ho una moglie che è insegnante di ginnastica ritmica per cui sì infatti anche alle olimpiadi avevamo commentato non ho seguito la questione insomma legata alla Baldassarri a Giorgio Colese la Raffaelli insomma le tre che poi sono diventate due insomma tutte queste dinamiche qui le abbiamo seguite io tu giustamente hai citato la questione del non esserci la controparte maschile allora c'è una questione una questione abbastanza grossa io sono arrivato a una teoria ovvero che secondo me lo sport moderno lo sport o almeno lo sport come lo intendiamo noi adesso sia non equo e questa so che è un'affermazione che può sconvolgere questa affermazione qua ci siamo arrivati all'incirca verso giugno se non mi ricordo male quando si parlava di atleti transgender in competizioni femminili che era un trend topic all'opica all'epora all'epoca a questa a questa affermazione ci siamo arrivati perché effettivamente nell'era moderna ci possono essere delle persone che giustamente come nel caso delle persone transessuali non vivano bene la loro sessualità il loro il loro genere e quindi decidono di affrontare un percorso queste persone non sono non abbiamo in anomoli infatti non riuscivo mai a pronunciare in maniera corretta non abbiamo attualmente un modo per categorizzarle perché perché lo sport ha dei canoni e non voglio andare troppo sull'argomento però l'esempio che spiega bene questa cosa è che la prima la prima atleta transgender che ha provato a competere in un combattimento femminile ha spaccato il cranio al secondo o terzo pugno alla propria avversaria ok quindi penso che questo rappresenti abbastanza quello che può essere il mio concetto tiro fuori questo concetto perché perché purtroppo nelle critiche che arrivano online per quanto riguarda gli sport alcuni sport c'è una direttiva che non so come dire però crea una differenza netta tra lo spettacolo che c'è nello sport maschile e quello femminile faccio un esempio la pallavolo come ha risolto il problema ha abbassato la rete ha abbassato la rete e abbassando la rete riesce a colmare quel gap fisico che effettivamente c'è e vedere una parita di pallavolo femminile è effettivamente molto divertente e molto stimolante per quanto riguarda il calcio ad esempio se uno cerca online e cerca qualche articolo ci sono tante polemiche sulla dimensione della porta perché ci si vedono spesso nei replay dei gol troppo facili obiettivamente presi dai portieri ora quello che mi dico è può essere un po' collegato lo sport femminile e in generale la caratterizzazione dello sport quindi senza stare ad andare a fare sul genere su quello che poi è il ruolo anche a livello giornalistico questo mi sono spiegato allora guarda io appunto come dicevo prima faccio danza classica e nella danza classica soprattutto nelle scuole piccole di paese purtroppo la rappresentanza maschile è molto bassa e infatti io insegno da diversi anni faccio danza quando ne ho tre ogni volta che apre la porta un individuo di sesso maschile ci sono le persone che festeggiano lo vorrebbero rapire diciamo dalla madre e non farlo andare più a casa perché non vedono l'ora proprio perché nella danza classica uomo e donna fanno cose diverse cioè hanno e ci sono proprio esercizi di tecnica maschile ed esercizi di tecnica femminile perché fisicamente il corpo di un uomo e il corpo di una donna hanno caratteristiche molto diverse la massa muscolare si sviluppa in modo diverso l'uomo tende ad essere più pesante quindi certe cose della danza classica tipiche di una donna di un corpo femminile non può assolutamente farle viceversa tutto quello che è le prese quindi prendere di peso diciamo una donna non può essere fatto il contrario perché fisicamente sono pesi diversi quindi poi io lo studio anche un po' all'università e quindi su questa cosa sono un po' fissata è sbagliatissimo cercare l'uguaglianza intesa come l'uguale matematico quindi non si può arrivare a dire uomo uguale donna cerchiamo di arrivare a questa uguaglianza cioè la parità intesa come parità di sessi deve essere dare la possibilità agli uomini e alle donne di rendere al massimo con le loro possibilità cioè non può essere che da oggi il calcio maschile deve essere identico al calcio femminile perché hanno caratteristiche diverse per me nel calcio femminile si vedono cose tecniche di tutt'altro livello rispetto al calcio maschile perché vanno a ritmi leggermente più bassi andando a ritmi più bassi il tocco della palla è più ragionato più pensato e si vedono cose tecniche a volte migliori rispetto al calcio maschile perché il calcio maschile è molto più fisico e più dinamico ci sono più falli partono palla al piede ma non si vedono tocchi più tecnici come dicevi tu mio padre ad esempio che è un portiere è stato un portiere mi ha sempre detto che per lui la più grande differenza tra calcio maschile e calcio femminile era il portiere perché lui mi diceva proprio guardando noi non seguiamo tanto il calcio femminile molto il calcio maschile ma speriamo diciamo di migliorare e spesso guardando lo mio padre diceva proprio questa parata è proprio diverso lui riconosceva molto più che in un settore difensivo centrocampo attacco nel portiere il ruolo più diverso ma per fortuna dico io esaltiamo queste differenze vanno secondo me proprio esaltate il calcio femminile è diverso dal calcio maschile non avrebbe senso fare una partita la partita del cuore è stata fatta perché ci sono state tutte le polemiche Aurora Leone quelle cose vabbè anche lì sempre l'Italia del 2020 ma è stato bello perché comunque era una partita di livello del livello della partita del cuore quindi non non la guardi certo per vedere delle cose tecniche ma non ha proprio senso mettere insieme sul campo uomini e donne perché fanno cose diverse è come paragonare nella danza classica una coreografia di cinque donne con una coreografia di cinque uomini fanno cose nettamente diverse che non possono essere equiparate a cui non può essere dato nella ginastica artistica uguale hanno attrecci diversi le parallele la frase il corpo libero ci sono cose proprio diverse quindi esaltiamo queste differenze così come nel raccontarlo lo sport cioè io con gli articoli in cui si paragona ama il calcio femminile oppure anche gli stipendi è ovvio non prenderanno mai se le cose ad oggi se le cose rimangono come sono ora un uomo Neymar e la capitana della nazionale femminile brasiliana di calcio lo stesso stipendio devono prenderlo a mio avviso come base cioè la base deve essere uguale poi è ovvio che se la partita di calcio maschile ha il quintuplo di spettatori della finale di una partita di calcio femminile ma è ovvio che non possono prendere gli stessi premi gli stessi bonus perché è purtroppo per fortuna non lo so un meccanismo di sponsor di cose cioè più visualizzazioni più spettatori hai più io sponsor ti pago meno ne hai meno ti pago e quindi lì ok poi ci sono altri sport dove le donne mettiamo la ginnastica ritmica e il caso che citavo adesso mi sfugge il nome comunque è un ragazzo mi sembra spagnolo in Spagna ci sono tantissime c'erano tantissimi ostacoli che poi lui ha cercato un po' di diciamo smantellare anche lì è ovvio se la finale mettiamo di ginnastica ritmica maschile è meno seguita di quella femminile allora quella femminile avrà magari un bonus nella medaglia maggiore rispetto a quella maschile e qui non ci sono problemi ma la base devi dare la possibilità a entrambi di arrivare lì cioè lo stipendio base che io in Italia prendo calcetrici donne e calcetrici uomini lo stipendio deve essere uguale cioè deve essere x e x poi il bonus può essere y e z sulla base dello spettatore medio ma la base deve essere quella e bisogna esaltare le differenze secondo me sì tra l'altro vabbè non sento complimenti per l'analisi che secondo me è banale ma cioè banale no banale è un cacchio è semplice ma dovrebbe essere ma esatto un discorso dovrebbe essere banale ma non lo è ora sono un attimo sto pensando troppi nomi e non mi viene in mente quello che voglio tirare fuori io però vabbè è la compagna di Megan Rapino sì che sostanzialmente ha quando ha posto perché recentemente tanto i ragazzi mi danno una mano sicuramente dalla chat la compagna di Megan Rapino quando recentemente ha proposto il riadattamento degli stipendi per quanto riguarda il calcio femminile negli Stati Uniti loro hanno più voce perché paradossalmente negli Stati Uniti ha avuto attualmente negli Stati Uniti è quasi l'opposto eh sì viene seguito più quello femminile che quello maschile prove Sue Bird ok Sue Bird che è la ragazza che gioca in W&B che gioca a basket quando insomma Megan Rapino e Sue Bird si pongono per quanto riguarda il riadattamento degli stipendi dicono esattamente quello che c'è cioè bisogna partire da una base comune e poi chiaramente ci rendiamo conto che come si dice Lebron fa il tutto esaurito Sue Bird magari no quindi ci rendiamo conto di quello anche perché adesso sul singolo guadagno di un di un atleta incide tantissimo la parte delle sponsorizzazioni che è chiaramente verticale e orizzontale quindi bisognerebbe sicuramente tutelare per quanto riguarda la tutela dell'atleta si aprirebbe un mondo un mondo infinito quello che voglio dirti io per te la provare perché quando facciamo questo tipo di discussione c'è l'approfondimento io gioco sempre a fare quello che la pensa in maniera contraria perché almeno c'è un minimo di dibattito anche se in realtà sono d'accordo con te te la giro al contrario allora abbiamo prima fatto l'esempio dello studio durante la partita della palla a volo la palla a volo è uno sport che è mediamente ecco nel senso che effettivamente riusciamo a pensare a mettiamola così un grande del passato dello sport della palla a volo femminile un grande del passato della palla a volo maschile non si può dire la stessa cosa per altri sport come ad esempio la palla a canestro tra tutte c'è il palla a canestro il calcio anche se il calcio adesso chiaramente avendo una massa di a cui accedere più grande questa cosa vale il meno cioè non è che si porta dietro questo concetto poi anche per quanto riguarda le giornaliste sportive mi spiego meglio effettivamente uno può storcere il naso si sente un uomo che commenta la ginnastica ritmica anche se io e la L ci scherziamo sempre c'è una e la sarebbe mia moglie c'è questa tizia che parla sempre della ginnastica questa atleta ex atleta che parla sempre della ginnastica ritmica in televisione che a noi ci piace il giusto perché sembra sempre tutta piena di sé vabbè ma ogni tanto viene accomunata da una figura che la deve un po' placare e in quel caso è l'uomo però lì fa la seconda voce per il discorso che facevamo prima cioè che la ginnastica ritmica è uno sport che fisicamente non è fattibile per un uomo per i canoni per i regolamenti che ci sono adesso non è che vale la stessa cosa anche nella ginnastica artistica è così cioè la voce principale che è la voce almeno durante le olimpiadi era così la voce principale è femminile e poi c'è un uomo che dà dei commenti tecnici insomma hanno un rapporto abbastanza equo però è la seconda voce sì e quindi dico non è che è così cioè io darei la colpa tra virgolette all'equità della diffusione del singolo sport e te la faccio ancora più comune e ancora più banale prima tu mi parlavi giustamente della questione del maschiaccio con i capelli corti in tuta e io siccome sono qui per fare provocazioni te la dico peggio c'è stato un periodo quando forse ma neanche in realtà probabilmente no però c'è stato un periodo in cui se l'uomo faceva pallavolo allora la gente iniziava a pensare che potesse essere omosessuale se faceva danza era sicuramente omosessuale infatti è una cosa che conosco da vicino esatto e per le donne è il contrario quindi se la donna fa calcio è sicuramente omosessuale se fa basket è sicuramente omosessuale la pallavolo invece ad esempio sta nel mezzo da questo punto di vista e adesso la si vede abbastanza con entrambi gli occhi si riesce a vedere sia un atleta che maschio che un atleta femmina che fa pallavolo non è che questo concetto viene portato dietro anche in televisione ed è per questo che il salotto calcistico è maschio nel vero senso della parola nel senso che ci vuole anche la donna bella da vedere e tutti i grismi secondo me allora questo è frutto di un tipo di società cioè un tipo di società che non permetteva proprio le donne quindi potevi avere tutti i sogni del mondo ma non potevi andare a cedere diciamo a questo sacro mondo che è il caldo barra tutti gli sport considerati sport maschili come il basket che hai appena citato le cose stanno cambiando quindi secondo me qui arriva il momento del tu emittente tu direttore di un giornale hai tantissimo potere cioè secondo me adesso le scelte singole della redazione di un programma giornale radio eccetera fanno la differenza perché devi rischiare un po' ma devi fare la differenza cioè sei tu che devi dimostrare che ci sono che gli dai fiducia e tante cose perché non facendo questa cosa ritorniamo a quell'ambiente cioè se tu mi fai vedere alle 10.45 di domenica sera quando tutti gli uomini tutte le donne di Italia sono sul divano che hanno guardato la partita se mi fai vedere 4-5 uomini che parlano più la modella ex velina che cammina con tutte le sue pose e gli fai lo zoom da qui o da un belico in su diciamo oppure se si alza un bel 360 gradi che fanno solo alle donne perché anche come le tv raccontano le donne è un argomento interessante se tu mi fai vedere solo questo è chiaro che l'uomo sul divano dice eh vedi le donne le donne il calcio hanno solo questa funzione cioè devi fare la mandanara di tiquitaca che si presentava in trasmissione in dei modi agghiaccianti cioè adesso ho perso un attimo l'obiettività ma erano cose veramente scandalose dei siparietti pessimi orribili degli zoom privi di senso in una trasmissione che parla di calcio perché dovrebbe parlare di calcio e se tu continui a farmi vedere questa cosa non fai altro che alimentare questo concetto e questi pregiudizi cioè sei tu che devi dimostrarmi altro sei tu che mi devi far vedere una donna senza poi raccontare senza tutelarla e fare tipo aiuto proteggiamo il panda che è la donna che parla di calcio no la metti lì perché se l'hai scelta per te ha le competenze per la fai parlare le fai raccontare di calcio e prima o poi la gente cambia idea poi alcuni rimarranno sempre indietro ma è così per tutte le cose ma la maggior parte del pubblico dai una domenica dai la seconda dai la terza dai la quarta se per quattro domeniche di fila tu ti trovi davanti una donna competente che parla di calcio in modo specifico che non fa errori una donna normale dopo ti abitui all'idea del allora è vero che può esserci è per quello che secondo me sta negli occhi di chi scrive o di chi guarda adesso è il momento c'è tanto dal basso ci sono tutte queste polemiche infatti mi fanno quasi piacere perché significa che un po' cioè queste polemiche nel senso queste critiche alla scelta fatta perché significa che la gente se ne sta accorgendo molto di più e poi questa è stata una cosa eclatante quindi sempre più persone leggendo il vario gossip risposta eccetera alimentavano questa cosa ma se ne è parlato si è parlato di un argomento importante quindi ci sono tante cose dal basso quindi visto che una base ce l'hai se tu è mittente non l'ascolti è un errore per me cioè sì è vero la logica del guadagno e del marketing ma adesso c'è tanta gente che ha capito queste dinamiche e tu devi dare ragione a queste persone e se non lo fai cavolo allora dico cioè cosa stai facendo non mi cascano veramente le braccia perché c'è tanta gente che ha capito questa cosa il calcio cioè la rapino e tutte le le altre calciatrici della degli Stati Uniti quando entrano in campo il pubblico urla il pulpei quindi voglio dire le persone che sanno queste cose ce ne sono tantissime e sempre di più anche tanti uomini il solo fatto che io sono qui invitato da un uomo a parlare di questa cosa lo dimostra e quindi dico come fai a non dar parola a non soddisfare questo tipo di target cioè è un voler tornare indietro che per me francamente non ha neanche più così tanto senso cioè è vero che è il solito target ma io torno arrivo a dire il mio concetto cioè che secondo me è tutto nell'identità è tutto quello che vuole dare il programma cioè io poi sono molto cioè essendo di matrice scientifica a differenza tua perché ho scoperto che cioè se non ho capito male tu hai fatto il classico cioè hai fatto il classico sì ho fatto il classico esatto una volta ogni tre post quindi immaginavo cioè ad esempio io fossi un caporedattore e comunque lo sono del mio programma cioè poi sono l'unico dipendente esatto della mia redazione ma questo è un altro discorso beh vabbè però ok ad esempio sfrutterei anche solo il fatto che tu venga dalla danza classica perché e questa cosa si vede questo è per fare un po' di pubblicità a Giulia Giulia Martinelli con una G in più su Instagram è un nome molto comune eh vabbè ad esempio secondo me il fatto che tu venga da un ambito da un ambito così artistico ti dà un taglio di lettura che ad esempio in televisione non si trova attualmente noi abbiamo parlato recentemente della questione che è ritornata tra Ibra e Lebron e ad esempio abbiamo lo diciamo nel senso siamo per rubare le cose abbiamo clamorosamente utilizzato il tuo post o almeno quella definizione di politica che tu davi all'interno del post questo per dire che sicuramente portare persone diverse a parlare della stessa cosa ampia gli orizzonti cioè proprio per il fatto proprio per il fatto che la danza classica è così poco diffusa negli uomini non ce l'hai mai avuto attualmente una giornalista sportiva che magari ti sa fare la disanimina sul fatto che Allegri in questo momento fa un sacco di verticalizzazioni e non porta risultato ma che dall'altra parte se salta fuori una dichiarazione come può essere quella di Ibra magari attinge alla sua conoscenza classica per farti un approfondimento che va un po' più su quello che che è culturale e qui esce lo sport cultura cioè è qui che salta fuori la sport cultura ma lo sport cultura non lo divulghi se per te il salotto è avere calciatori che nella loro vita hanno fatto giusto calcio e forse hanno provato ad allenare con tutto il rispetto che ho per Bergomi e compagnia cantante per l'amore del cielo lungi da me sicuramente Bergomi sa meglio di me come si sta su un campo da calcio questo non lo metto in dubbio oppure appunto da veline e showgirl che fanno parte di un pacchetto televisivo che sembra essere lo standard per poter portare a casa la pagnotta qui ritorna il discorso dell'obiettivo secondo me il punto della questione principale della questione è che cosa vuoi fare esiste un sistema sufficiente con cui si riesce a portare a casa un risultato che ti faccia guadagnare qualcosa esiste un sistema più audace con cui magari porti meno a casa a prescindere perché tanti hanno storto il naso di fronte al divin codino perché si vede poco calcio di azioni se ne vedono poco e questa è una cosa che ho raccontato spesso cioè ci sono tanti i miei amici che mi dicono che non gli è piaciuto perché non si vede calcio dall'altra parte però ci sono tante persone come me che hanno aspetta comprato la maglietta di Baggio che io ho comprato solo dopo il divin codino per farti capire ma non perché non conoscessi Baggio perché io il calcio sì abbiamo un rapporto abbiamo un rapporto un po' strano diciamo che mi sono dimenticato diciamo che non è un film per chi vuole delle statistiche per chi vuole conoscere il Baggio calciatore ma è per conoscere il Baggio uomo che le scrive per me perfettamente perché si concentra su quello quindi perfetto sì cioè hai centrato il punto e ecco da questo punto di vista sono molto contento perché e per far per diciamo renderti un pochino più ottimista perché attualmente il mio discorso sembra si fanno i soldi facendo dell'altro quindi niente mettiti a studiare letterature antiche e vai a fare ripetizione al classico no cioè ad esempio Netflix è la prova secondo me che da questo punto di vista qualcuno sta ascoltando The Last Dance è una produzione della Madonna dove finalmente è saltato fuori quello che ho sempre detto cioè rispettiamo tutti il giocatore di Jordan ma adesso avete imparato che persona era Untold riea una serie di documentari molto importanti è uscito appunto il divincodino quindi in questo senso secondo me ecco questo secondo me va a braccetto cioè dal momento in cui si cercherà di diffondere effettivamente dello sport cultura persone come te secondo me verranno prese più in considerazione perché obiettivamente non c'è non ce n'è cioè ma anche anche di quelli anche di quelli bravi non può esserci qualcuno che viene dalla danza classica allora secondo me sta cambiando molto il modo di raccontare lo sport ed è secondo me tutti i cambiamenti sono sono positivi all'inizio The Last Dance ha fatto un successo clamoroso solo io l'ho visto tre volte di tira quindi insomma immagino un appassionato di basket e tant'è che Prime Video adesso sta raccontando tantissime squadre dall'interno liberamente copiato da The Last Dance perché hanno visto che questo rendere umani gli sportivi piace tantissimo perché il pubblico si medesima il pubblico li conosce sotto una nuova luce che non è la statistica sportiva a me è tornata in mente la domanda di prima a chi ti ispiri l'unica persona che ho detto cavolo fa il lavoro dei miei sogni è Federico Buffa che per cui ho una stima aspetta eh vabbè ecco hai tirato fuori il nome da un milione di dollari dov'è allora devi sapere che io Federico Buffa l'ho guardato ho guardato tre volte solo quello delle Olimpiadi del 36 e ho qua un pallone autografato da lui perché c'è una storia recente legata a Buffa però sì insomma hai tirato fuori il nome da un milione di dollari qui è un'autorità e lui lui fa tanto sport cultura come come lo abbiamo detto esatto e la cosa per me bellissima è che ha un successo incredibile cioè i biglietti di Buffa vanno sold out dopo un minuto i programmi su Sky che non so da un po' ma i suoi programmi vengono visti tantissimo sono tra i più edisti il documentario il servizio su su Ali e l'hanno visto non so quante persone su George Best cioè sono sono rimasti famosi continuano ad essere citati e quindi dico perché c'è solo lui cioè ci sono adesso grazie per avermi messo in questo filone ma come mai ci sono tantissime persone che cercano di farsi spazio e che hanno competenze diverse che cercano di farle vedere perché allo sport ok è questo ma non è solo questo a me ha aiutato tantissimo ad esempio scrivere per un blog che non è un blog sportivo che si basa sull'attualità io tutti i giovedì più o meno scrivo un articolo di calzo e ovviamente essendo il target di questo blog di attualità non propriamente target sportivo io non metto mai statistiche è inutile per me scrivere cose molto tecniche perché il pubblico magari non è interessato e quindi dice fa lo stesso mi vado a leggere un approfondimento economico quindi io preferisco raccontare storie e quindi il cercare sempre più storie quindi anche su Instagram ho iniziato a seguire tante persone che raccontano storie e ce ne sono veramente tantissime adesso c'è una pagina molto famosa che adesso lo fa un po' meno di raccontare storie ma prima il romanzo calcistico si chiama loro mettevano tanti posti in cui appunto come suggerisce il nome rendevano romanzavano un po' il calcio lo rendevano molto più più classico diciamo ed è una cosa che funziona e i loro numeri lo dimostrano i numeri di buffa lo dimostrano e quindi dico insistete su questo per quello che non capisco proprio queste cadute di stile perché sì l'economia sì il fare più più spettatori e tutto però ci sono tante persone interessate ad altro e quindi secondo me è un demerito dell'emittente non soddisfare questo questo pubblico sì secondo me ritorniamo più o meno sempre al solito discorso cioè è come dire perché quando si scrive un articolo si punta così tanto sul titolo e la cosa principale è fare il clickbaiting siamo un po' vittime di questo sistema è bello vedere che cioè io raga non la potevo sapere questa cosa di Federico Buffa cioè sui tuoi social non c'è scritto mai non c'è scritto mai io come ho fatto è perché ho la visione secondo me ci notiamo a vicenda tra queste cose tra fan di Buffa secondo me siamo ormai una setta persone tra l'altro per dire così un pochino il discorso per quanto riguarda Buffa poi c'ho un aneddoto da raccontare proprio recente però sì sono d'accordo cioè si ritorna al problema del target è tutto lì e secondo me per chiudere un po' la questione si legge abbastanza anche nelle parole che dice Alessia Tarquinio perché perché di sì perché quando lei dice io non mi sono tolta nessun sassolino dalle scarpe ho sempre camminato scalza che è una foto bellissima secondo me quando dice forse è per questo che non ho mai fatto tanta strada secondo me ammette una cosa che secondo me si può un po' sottoleggere che probabilmente è effettivamente un peperino cioè effettivamente una persona che se ha la sua la dire la dice e forse non faceva comodo a tanti questo è un'opinione mia e che leggo chiaramente senza voler fare voler fare nessuna sottotraccia tra l'altro la Tarquinio ce lo siamo anche detti è una persona che io ho sempre stimato un sacco fa un tipo di vita che mi fa impazzire e fossi no no io fossi ma poi la cosa mi fa impazzire la Tarquinio è la sua capacità di parlare di una tematica estremamente in maniera estremamente competente e poi balzare andando su una cosa che fa molto più ridere cioè proprio questo suo gioco di tono mentre parla di una cosa seria secondo me è una cosa che pochissimi altri hanno io gli farei fare cioè fossi un editore gli farei fare un programma come vuole lei cioè te fai dimmi cosa vuoi e fai come e fai come ti pare lei ad esempio io non le ho mai scritto perché io vabbè poi io ho abbastanza la faccia come il culo quindi quando posso scrivo a vari giornalisti eccetera se vogliono venire a parlare perché a un certo punto ho avuto una diatriba con diatriba una discussione con Alessandro Mammoli che in realtà è già venuto qua recentemente ce l'ho riavuta perché da quel capitolo avevano avuto il contratto c'è un contratto con Sky che li vincola a non poter venire su Twitch poi questa cosa quanto vera è non lo so visto che comunque lo stesso Mammoli ha un canale suo su Twitch però vabbè è suo questo è un altro discorso però non pensavo effettivamente a fatto che la Tarquinio non è più a Sky e che magari essendo su Amazon e essendo questa una piattaforma di Amazon magari può anche potrebbe anche venire però per darti un po' di diciamo di di ben speraggio non so cosa ho detto vabbè insomma comunque un po' di ottimismo un po' di ottimismo io volevo intervistare Buffa ci ho provato in tutti i modi in tutte le maniere a me ero preparato tutte le scalette e ho provato a sfruttare un'occasione recentemente perché ha fatto lo spettacolo il suo ultimo spettacolo teatrale qua sui mondiali del dell'86 e e e come è successo che praticamente ci ho provato e c'è stata una piccola incomprensione tra il mio ufficio stampo ovvero io e il suo ufficio stampa che non non ha capito la mia richiesta quale era e lui disperatissimo mi ha rincorso dietro le quinte quando sono arrivato lancio perché la storia sarebbe lunga da raccontare però mi ha letteralmente rincorso dietro le quinte per dirmi guarda che nel senso come dire ti conosco cioè sappiamo so chi sei e perché sei venuto qua qualcosa insieme faremo lo stesso quindi diciamo che esiste questa branca di filosofia sportiva che si sta che sta avanzando deve trovare il suo spazio deve trovare il suo spazio e ecco questa secondo me è una cosa molto importante deve evitare di scimmiottare buffa cioè buffa ce n'è uno e che rimanga lì e questa è una frecciatina neanche troppo nascosta da danni cioè secondo me è un ce n'è uno e che è giusto che faccia quello gli altri che divulghino lo sportocultura esattamente come fai te esattamente come fanno tanti altri ma che prendano una propria identità perché senza identità poi dopo la gente va a cercare l'originale e il resto viene messo da parte questo è questa è la chiosa della questione allora Giulia io ti ringrazio di tutto il tempo che ci hai lasciato a disposizione i ragazzi sono super contenti chiaramente della puntata di oggi io spero di reinvitarti assolutamente in un futuro prossimo magari invece di parlare di problematiche che hai magari di una tematica di cui vuoi parlare ecco esatto no 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 ma tanto c'è il discorso il discorso è che il io attingo dai vostri post perché ogni tanto devo prendere qualche spunto vabbè ma certo io li faccio apposta quindi spero in qualche modo di io il martedì e il mercoledì di solito uno tra i mercoledì e mercoledì faccio l'approfondimento e nell'altro giorno faccio l'intervista quindi di solito cerco di studiarmi l'argomento per poi la settimana dopo quindi vado tra voi ci sono due o tre due o tre persone che seguo dove dove vado a attingere degli argomenti quindi a volte potrebbe arrivarti il messaggio mio quindi se vuoi Giulia ospite piso non l'ammartorio così poraccio c'è una vita da fare già è arrivata nel senso pensavo di trovare una cosa super seria l'ho vista è arrivata era tesissima con un pio di voce ha capito subito che siamo una bambra anche di idiotico è normale no ma anch'io sono molto più ammiraggico eh oh ma mi sembra mi sembra il giusto mi sembra giusto va bene allora spammo questo che è il profilo di non così di Giulia mi raccomando andatela a seguire grazie mille Giulia grazie spero di rivederti grazie a voi presto assolutamente è stata una bella chiacchierata grazie mille ancora grazie mille ciao Giulia buona giornata ciao buona giornata anche voi eccoci qua eccoci qua brava Giulia si Ricky sei sempre il solito porca puttana Ricky sei sempre il solito era una roba una roba incredibile no vabbè cerchiamo di eh l'ho visto subito l'ho visto